A GABRO! Ma che stai a fa? Ricordate che i squali STANDI ARRIVÀ! Hello! Closhard! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Che dite? Sta suonando il telefono di Marco Chi è Marco? Chi è? Chi è? Chi è? Vuole entrare dentro? Risponda! Pronti? 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 Tanto qua stanno a fare i lavori non so se sentite rumori di sottofondo Eh guardi sono al lavoro non posso parlare perché no perché lavoro sempre io questa è la problematica costante lavoro costante lavoro la ringrazio magari mi liberi anche da questo lavoro mi fanno uscire attaccato ma attaccano in faccia a me questi giustamente ma chi era? Era la team volevano mettermi un contratto a casa pensavo Simone ma invece niente no ieri mi arriva una chiamata da un numero inglese ah pensavo sconosciuto perché anche a me mi chiama qualcuno con il numero sconosciuto no? che prova a rompermi i coglioni anche nel privato però ok insomma un numero svedese Regno Unito vedo dico bah rispondo cazzo ne so forse sarà lo staff di Big Luca rispondo e parte un messaggio registrato tipo ciao benvenuto nel mondo delle cripto così madonna io vero e te non ho più parole e invece prima mi è arrivato un classico messaggio bot su instagram da quelle pagine diciamo scammettine hot così tipo clicca qui le bottane clicca qui per parlare con me la cosa simpatica è come immagini del profilo aveva Alex quindi ho risposto amore tutto bene no vabbè assurda sta cosa ma quasi fantascientifica un botte con la faccia di tua moglie esatto mette un po' danza una bottana con la faccia di tua moglie che era la cosa cioè te l'ha mandata a bottuzzo secondo me no cercare di di convincerti chi è bottuzzo no 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 è un personaggio Marvel che verrà giù non ho mai sentito allora cabrone non devi dire cazzate ma ho scoperto che la colpa non è neanche tua bensì c'è un telefono che vibra è il mio numero sconosciuto numero sconosciuto e calla numero sconosciuto ma cos'è questa live ma che cazzo sta succedendo qui comunque simone sul gruppo ha scritto no numero sconosciuto simone ha scritto no no pronto? wait chi? dica siamo in live beh è pericoloso prego dica ma che cazzo è? ma che cazzo è? ha chiesto siamo in live e poi non ha più parlare ma che era Massimo Visconti no è vero pareva lui e il Sambucone e lui che voleva il Sambucone e il Sambucone allora stavo dicendo il gabrone si esprime sui bosca e manda un messaggio al Cerbero il gabrone deve stare molto attento deve stare molto attento ma in realtà ho scoperto che la colpa in questo caso stranamente non è del gabrone ma com'è possibile? bensì del pippega beh il pippega non è che deve stare attento è tutta colpa tua ma vediamo il contributo poi vi spiego il pippega non è neanche proprio neanche il pippega non è neanche tu sei neanche vediamo vediamo posso essere un bosca più che come uno show che poi sono stati anche uno show bello però a mio parere si è ricordato più quello che è successo intorno all'evento che più che dell'evento sai? no vabbè no ma perchè secondo me sono stato un vabbè dai ora non esageriamo ora basta che fuori all'evento si presenta un matto e un budino e cambiano le cose in maniera vertiginosa Team Rocket non ho detto nulla sono stato un momento che più che essere uno show hanno rappresentato un momento magari più di unione della comunione non di unione ma di conoscere la comunione è top è top è tipo il momento lui che salta il cespuglio non è una cosa da poco buono stiamo inglobando Twitch ingoblinando ingobbando io ragazzi il mio unico no io lo voglio dire alla chat ragazzi il mio unico limite è la legge italiana quindi proprio io qualsiasi cosa ho detto finora proprio sto tranquillo il mio unico limite è la legge italiana ricordatevelo angelo greco top aiuto grazie io sono sempre molto al di fuori di tutto ciò ci sono stato i boscar ma sono cioè mi hai visto sono sempre una persona che mi si fa i cazzi miei non vado mai a parlare con nessuno ma non perché non mi stanno sul cazzo ma perché se non mi viene a cioè se qualcuno non mi viene a parlare non voglio andare io a rompergli il cazzo o fare amicizia senza senso se vuoi fare amicizia grazie Ivan per il ride grazie a me ci sta poi siamo lì si fa amicizia però non c'è un un motivo per cui bisogna andare e magari non c'è un motivo però sono io fatto così che sono un po' magari sociopatico quindi se o magari quella persona lì mi viene a parlare o comunque sti cazzi però io l'ho visti proprio anche davanti al MOVA stando lì ho visto che c'era tanta bella tanta bella gente che cioè si facciava networking certo sì c'era come si dice c'era l'unanimità diciamo esatto cioè nessuno che si stava sui coglioni esatto tranne due casi a parte un po' di beef che c'erano nel mezzo tipo Rospo che arriva e dice e amarra ma perché ma questo lo invito oddio ecco il momento è vero io stavo parlando con Aladino io non ho visto nulla se hai visto qualcosa nella live di Aladino perché il gabrone la teneva in mano in quel momento e poi a un certo punto arriva Rospo e fa ma questo non invito proprio alla marra dimmi un po' mi sono perso tutti sti momenti io solo quando Aladino guarda ti sei perso un cazzo eh no sì infatti per i miei momenti grossi era il momento il momento reclami eh quel momento io sono diventato un ufficio reclami dovevamo fare i ticket il momento la mentela il momento la mentela e poi Gianluca mi li mannava tutti a me capito sì 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 c'è marra per questo ma io scappavo no la è stato bellissimo quale della giusta no che arriva tutto convinto che comunque voleva parlare di un problema no finchè si parlava dei cazzati io stavo la tutto contento no che ascoltavo tutte cazzate la certa fa no però ragazzi dobbiamo parlare no del problema che c'è stato da noi perfetto e per queste cose c'è Davide Marra per esempio ne sono andato dopo mezz'ora ma faccio stavano ancora lì a parlare mi sono risparmiato io poi sono stronzo perché mi accollo pure ste pratiche capito vabbè comunque adesso arriva il momento saliente neanche io ero stato invitato lo sai bugiardo 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 la colpa non è tua questo non lo so però ha fatto troppo ride perché la seconda sera dei Boscar durante il pomeriggio o forse è la prima non mi ricordo io no c'è Boscar quindi io domando a Ercole ah sì ma via il gabrone lui mi fa io che ne so me l'avete invitato non lo so ma viene tu lo sai se viene o meno quindi la situazione era più o meno questa ma viene il gabrone Ercole io che ne so ma l'avete invitato non lo so ma viene tu lo sai se lo viene visto che vi conoscete viene il gabrone allora io avevo dei ricordi un po' diciamo vaghi di questa cosa qui sicuramente non era uno segnalato ai buttafuori vero le mie indicazioni furono ragazzi se se viene il gab fatelo entrare tranquillamente ok non c'è alcun problema poi mi sono ricordato stamane e sono andato a controllare i messaggi whatsapp beh con il buon pippega beh risalenti a circa un mese e mezzo prima dell'evento io faccio al pippega guarda se vuoi venire ospite questo è l'indirizzo scrivi tu al gab visto che non ho il suo numero whatsapp e lui mi fa si si tranquillo tanto vivo con lui no vabbè e quindi il pippega l'ha scammato ah quindi è colpa non gli ha detto un cazzo vabbè vergognoso ma è una cosa vergognosa meno male che tu hai le prove in screen ma è una cosa assurda perché sennò ci rimane povero gab ci rimane male infatti io in realtà ci falli di gab volevo anche fargli fare delle cose però a poche settimane dall'evento non me l'aveva fatto sapere in cazzo e quindi noi siamo andati avanti qua ecco qua vedi questo era il b**** lo faccio sentire vengo volentieri gab vive da me per cui ci penso io indirizzo hai capito pippega povero cabrone povero cabrone non state metate a bosca vabbè andiamo avanti io non a lei Mara non mi ha mai scritto io quando sono andato quando sono andato dai no vorello due mesi fa ti ricordi? già mi avevano detto che ti volevano ai bosca vedi bravo Ercole ti ricorda Ercole però non me l'ho fatto fare niente mister Mara ma io sono il content creator migliore d'Italia ma ti svegli? ma quando è che mi fate fare un lupus in fabula insieme a voi? ufficialmente invitato per lupus ma quando cazzo vuoi venire? ma lo sai che conviene? infatti ho commentato così sotto ma bisogna farlo però qua a Roma fide fisicamente lupus deve salve che? oh sta smazzando che hai incontrato Big Luca? che me dai? al Sio Big Simo bella 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 vabbè oh se vuoi cosa? sto avvantaggiando in chat dicevano Simone al secondo giorno già in burnout tutto bene? questo rientro alla routine mi sta scombustolando ma era prevedibile che devo un attimo ricapire che come ti sei sentito stamattina? grazie grazie guarda che bel benvenuto grazie quando mi sono svegliato alle 420 eh questo ho provato questo ho provato però vabbè bisogna ritornare ingranare ma si 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 ingrana ok vabbè ma poi è cambiato qualcosa? la glessidra forse a me mi è cascata il posa cenere ho spazzato però tutto a posto ma non è tutto spostato non lo so non lo so nell'inquadratura nell'inquadratura è dritta l'importante è quello va bene va bene di cosa si stava parlando? cazzate come al solito vabbè gabrone che vuole venire al lupus e io ho scritto gabrone ufficialmente invitato per lupus vabbè vedo qua questa clip qua che la mandino al cerbero uè pulcini pulcini cambia battuta gab dai era certa fare un lupus in fabula insieme all'Uliziv e al pippega tv eh? vaffanculo vaffanculo mister flame tossico di merda no guarda che sguardo vitreo è vero ma porca puttana ma porca puttana sto male ma porca puttana sto male cazzo c'è una risata a 300.000 decibel non pensavo fosse veramente così alta sì 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 perché tossico di merda assurdo sto ubriacone del cazzo no no vaffanculo vatta a giocare lo stipendio coglione no 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 ma porca puttana no polle non avrei mai una risposta perché sono cose di cui non me ne prega un cazzo ma sto male ma porca vinci sono sparoleto bella sole buonasera ma sì ma anche mister marra è un po' un tossico ma non si fa i broccoli marra non si fa i broccoli marra non si fa i broccoli marra giustamente dice Ercole che fa morire comunque sì sì ma magari viene ma sei risate fa joker allora io lo dicevo no l'ospite speciale per questo lupus che si terrà domani alle 21 che si terrà domani alle 21 doveva essere giocherone perché c'è il nostro caro joker che conosce lupus giocava lupus con i suoi amici quindi è un gioco che conosce però è molto impegnato quindi ogni volta non riusciamo a inserirlo stiamo cercando un sostituto per Meliador qualcuno che stessa alla sua altezza e gioca dato che gioca al lupus da quando è piccolo pensiamo di metterlo lui al posto di Meliador e dargli il ruolo di Meliador c'è lui che spiega le regole insomma vabbè è un lupus fatto a casa a modo nostro è superciato molto casareccio ovviamente la differenza è la prima volta che gioco al lupus col cervo annuncio ragazzi ci stanno i ragazzuoli domani siamo molti forse tipo undici dodici una cosa un po' e sedie esatto e ci sono delle new entry una new entry che io sono fiero di annunciarvi la prima apparizione la prima partecipazione al lupus di nzzuccio nzzuccio papawidiwa david john rubino il re dai dai sponsor però mi immagino che se incazza eh che se tagliamo io son villico ti dico sempre la verità ti dico sempre la verità comunque guerra tra professori di italiano non mi interessa a proposito di nzzuccio versus erfaina è l'aspetta ti sei contraddendo però damiano contraddendo va bene ragazzi io vado via contraddicendo contraddendo lo so contraddicendo forse eh e poi c'è la risposta però attenzione eh nzzuccio buona buona serata il mio uomo il mio uomo diglielo diglielo no scusate visto che c'è uno scontro a cui io non posso assistire perché non sono in grado assistire andrei a dormire assistire no Damiano dove sei Damiano che fai tanto professore assistire perché scusa non si dice assistire non si dice assistire un minuto come si dice buffone un minuto come si dice come si dice buffone assistere in Orlando e a vada a vedere vada ad assistire vada ad assistire vada ad assistire alla definizione dopo la maschera guerra fra titani si 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 un vero e proprio circo ah ragazzi questa invece è una notizia non particolarmente divertente ah la cosa si è tirato tutto raga tipo quegli animali che morono ma era la cosa seria sei tutto teso sei rigidito ma è la cosa seria ma hai letto faccio il rap era un modo mio ma io solo quello ho letto non so di cosa Ertruce baldazzi allora faccio il rap era un modo mio ho letto raga mi ha cascato l'occhio Allora Una sorta di confessione Del buon Truce Baldazzi Devo dire che negli ultimi anni Stanno uscendo questi sfoghi Da parte di personaggi del web Che sono divenuti celebri Per video virali Ricorderete la bambina di Justin Bieber Schizzo male Ce ne sono stati diversi E sono rimasti confinati In quel meme lì In quella clip ovviamente Truce Baldazzi i video sui social mi hanno rovinato Non uscivo più di casa Faccio il rapper a modo mio Matteo Baldazzi 31 anni Famoso tra il 2010 e il 2012 Con canzoni diventate virali Faccio fatica con i live e andare in giro Il sogno resta incontrare Fabri Fibra Organizziamo Facciamo un'intervista doppia Truce Baldazzi e Fabri Fibra E' pure il sogno mio Ma organizziamo anche un feat A questo punto Io comunque la farei in intervista Attruce Si confessa al cerbero Sono il primo a essere consapevole Di avere dei problemi Ma non sono un fenomeno da baraccone I video sui social mi hanno provocato Una brutta depressione e dato problemi Per mesi non sono uscito di casa Eppure oggi continuo ad andare Dove non c'è molta gente Amo il rap e voglio continuare a farlo Speranno un giorno di poter incontrare Il mio titolo Fabri Fibra Ecco qui Matteo Il truce Baldazzi 10 anni Milioni di visualizzazioni su youtube E social dopo A fine c'aveva problemi veri E raccontava i suoi problemi Sulle canzoni Cioè quello serve rap La scuola Rastignano Vendetta vera Vendetta vera Non finirò in galera Odio la scuola degli insegnanti Vendetta vera Non finirò in galera I versi improvvisati Che tra gli anni 2010 e 2012 Sono rimbalzati Sulle pagine social Di mezza Italia Rendendolo famoso Con i relativi videoclip Il rapper oggi A 31 anni Continua a vivere a Bologna La cittadina di Pianoro E la sua frazione Rastignano Improvvisamente celebri Per gli attacchi Che Truce Baldazzi Rivolgeva a quei luoghi A tutto il mondo Che non lo capivano E che stando a quanto ci racconta Continua a non farlo Decise di pubblicare quel video Perché avevo avuto dei problemi Alla scuola media Racconto il 31 anni Ormai avevo finito la scuola Ma a quel periodo Mi ha lasciato molte cicatrici Perché anche con i compagni Non era andato bene Andò un po' meglio Alle superiori In particolare Non mi sono trovato bene Con degli educatori Che mi erano stati assegnati Dalle medie Era molto severo con me E non siamo mai entrati In sintonia Allora ho composto le canzoni Le prime che facevo E che mi rendo conto Non fossero fatte molto bene Pubblicammo anche i video Il resto lo conoscete già E vedi le serate trash Ma mi bullizzavano E non andava bene Ricordiamo che Alla fine di quel videoclip Lui tirava una bomba Nella scuola Sì che faceva esplodere tutto Tipo Joker Una valigetta Dark Knight Poi anche questo Questo capitolo Se vi ricordate Delle serate in discoteca Dei Chiamiamoli influencer Comunque dei fenomeni Purtroppo visti Come fenomeni da baraccone Pure Sapio Mi ricordo Che faceva tante serate E comunque si lamentò Del bullismo Forse Uno dei primi Fu Richard Benson Lo sto per dire io Richard Benson Minchia Tutta la roba che gli tiravano Sì A me mi hanno taggato Sulla storia Che sembrava come un concerto Di Richard Benson Recente Non so se è vero Richard Benson è uno Che ha accettato Il suo status Di fenomeno da baraccone Non l'ha proprio Anzi Ci cavalcava pure Sì E quindi Invece Il destino di Truce Baldazzi E quelli come lui Che sono state meteore trash Per un periodo E poi ovviamente Decadute Non è bello E onestamente Non ho una Non so come Si potrebbe Riabilitare Tra virgolette Lui ma come tutti gli altri Cioè È un destino crudele Cioè Bisogna accettarlo Secondo me O se ne esce Con nuovi contenuti Sì Però capito Dovrebbe Ribaltare tutto All'immagine Che si è creato Fino a mo' Beh io non penso Che un Benson Adesso riceverebbe Lo stesso trattamento Me lo auguro Almeno A 70 anni Benson ok Che so 40 anni Ma tu c'è Baldazzi O se ne esce Una roba che spacca i culi Ti lo auguro Magari pure Un'intervista Dove si confessa Effettivamente Ma l'ha già fatto Il radio Negli ultimi anni Ma non è che Lo cagassero più di tanto Cioè C'è troppa Disparità Tra le visualizzazioni Eh sì Ormai Certo Vrebbe fare una cosa Shock Avevo visto un articolo Su De Lui Però era esattamente Come questo Peraltro Neanche molto tempo fa Era un video Peraltro Su Youtube Dove lui Diceva le stesse Identiche cose Si lamentava Vediamo Ma era apparsino No ma non mi ricordo Chi cavolava messo Fanpage Può essere duro Un po' di mesi fa Non molto tempo Comunque Era una sorta Di intervista Ma c'è un video recente Però no In alto 13 ore fa Sì Comunque era De quattro anni fa Mese al concerto Ai miei delici Ho preso una decisione seria Video di 13 ore fa Di Truce e Baldazzi Magari qualcuno in chat Ce lo può dire Era un interv Era stato Intervistato lui Pure sta cosa Del video quadrato Cioè Mese al proprio del 2009 No perché Cioè capito Lo perseguono Madonna Lill angels Sexy baby Sexy mommy Gireranno con Gireranno con Estate La merda proprio Che ci girano Quella l'hanno rifatta Pure bene Dai Ma io credo Che sia un video vecchio Che lui ha ricaricato Ma come Ho preso una decisione seria Poi c'è lui Recent Ciao C'è lui adesso Tutti sono Truce e Baldazzi Malato mentale Vuoi dire a tutti Che io Oddio non è una gimmick Per il fatto Di uscire da casa Conosce persone nuove Eccetera eccetera Quando sarò dimagrito Perché Uno Adesso peso 155 kg Non mi sento all'altezza Di tutti gli altri Di avere a che fare Con gli altri Due Siete tutti degli stronzi Che mi prendete in giro Mi spottete E mi deridete Alle mie spalle In faccia Terzo Poi in giro Non ho a che fare Con nessuno Non mi piace niente Sono sbogliato Sono disinteressato E non mi piace niente Io sono una boccia persa Adesso in questi momenti Lo sapevo E' una boccia persa Boccia perché boccia Non ho capito Che ha detto E' una boccia E' una boccia persa Che vuol dire E' una metafora E' una metafora E' vabbè Non l'ho capita E' tipo un boccino Che non ha Non ha trovato la sua strada Ma la metafora E' inerente al gioco Delle bocce Me sa Sì Chiedo rega Non ho mai sentito Questa metafora La boccia persa Non ho mai sentito Io lo inviterei volentieri Magari Guarda che potrebbe uscire fuori Anzi Secondo me Uscirà fuori Una bella live Davvero E' da riqualificare Perché non si merita Tutta sta cattiveria Al perotruce Adesso In questi momenti Quarto Voglio dimagrire Voglio stare sotto I 100 kg Adesso Zero Non bevo più vino Neanche della birra Promesso Non voglio Ingrassare di più E sto attento Con l'alimentazione E comunque Io Per questo Anno Anno Quello che è Voglio chiudimi in casa Non voglio avere niente a che fare Con nessuno Niente contatto con gli altri Perché Io ho paura Non voglio avere niente a che fare Con nessuno Perché siete tutti Degli stronti No Curaccio però Non va bene Uno sfogo Comprensibile Beh C'è poco da dire alla fine Fa capire quanto sta Dopo tutti questi anni Psicologicamente Perché fa un video del genere Vuol dire che Non ci hai Fai proprio più Penso Ansia sociale Poi In questo video specifico Non ha neanche parlato Del suo trascorso Sul web Ma del suo presente Appunto Però fa capire Per quello dico Che è greve Il conto dice Sto male per le cose del passato Venendo in culo delle cose del passato Queste sono le parole Di una persona Che se esce Si sente guardato Solo per essere preso per culo Raga Cioè E questa Come me la sto a vedere io Per me andrebbe aiutato Dalle persone a lui care A sto punto Cioè Se un mio amico Sto immedesimando Se un mio amico Mettesse un video del genere Annunciasse Che si vuole chiudere in casa Per sempre Direi Oh Che c'è Che non va Parliamo Facciamo qualcosa Che risolve questo problema Poi che si autodefinisce Malato mentale Raga Ci sono cose grevi Emo ok tutto il meme Però Non è Secondo me È una cosa un po' problematica Ma secondo te Da dove nasce sto meme? Eh vabbè Da tutti Anni e anni e anni Di prese per il culo Eh certo Certo Secondo me È finito Secondo me Prescindere la sua condizione mentale A questo punto Ovviamente non lo sappiamo Questo è quello che dice lui Però magari i suoi problemi Sono a prescindere Anche relazione ai video Di cui abbiamo parlato del passato Ovviamente possono amplificare Condizioni di disagio Che avrebbe comunque Credo Non lo conosciamo Non lo sappiamo Queste sono le sue parole Stanno a scrivere in molti Magari non c'è la persone care Ma non lo sappiamo Veramente malato mentale Diagnosticata No appunto Ascolto le sue parole Ma non lo so Comunque Però vedi Però parliamo in maniera seria Se lui l'ha fatto effettivamente In buona fede Convinto che era un gesto tranquillo È da condannare O può essere comunque definita come apologia No Non è Punto Dobbiamo credere alla sua buona fede A quel punto uno spiega Guarda Fa ride Non è che uno dice Scandaloso Oh mio Dio Che cosa è accaduto Senza quante volte l'ha visto Far ride Magari vedendo i video italiani Facciamo un esempio Magari uno di noi Va in un posto Dove ci sono altre Regole culturali Che ne so Fai un gesto Che lì è considerato super offensivo Ciao Ne so così Gesto così con la mano Che in quella nazione significa Morte a te e tutta la tua famiglia Certo Come si fa a pensare Che il saluto nazista O comunque romano Si abbia forse Per l'antica Roma Per l'antica Roma Giusto per quello Non lo so Comunque vediamo Perché scusa Il podio Mi suona all'inno italiano Ma non è per la Ferrari Dominatrice della Formula 1 In questo inizio di stagione Come ulteriormente certificato Dalla vittoria Di Leclerc In Australia Neppere Nea Bastianini Splendido vincitore Ad Austin Nella MotoGP Ed attuale Capo classifica del mondiale Con la sua Ducati Del team Gresini Ma che te riti Che è un periodo difficile La stessa domenica Che celebra I trionfi italiani Nei motori Ma In Portogallo L'inno di Mameli È un periodo difficile E la bandiera tricolore In cima al podio Celebrano Il successo Di un giovanissimo Pilota russo 15enne Ertyom Severyukin Che ha vinto La gara d'esordio Nel campionato europeo Juniors di Cato Vabbè a 15 anni Dai Anzi che non gli ha fatto Elicottero col cazzo No A 15 anni Gli avrei fatto Elicottero col cazzo Stava al posto suo Avevo vinto Alla mezzo A tutti questi Pensavo fosse un uomo Era una ragazzia Ma un più schelettino Un ragazzo Giolo Svedese Oscar Pedersen Ed è dunque partito Come meglio Non poteva nel campione Dei categorie Era di piccoli veicoli A quattro ruote Ruinato la cadiera Come si vede All'ordine ufficiale Sul sito FIA Mentre a fianco dei nomi Dei suoi colleghi Ci sono le bandiere Delle loro nazioni Vicino A quello del russo C'è il tricolore Marco ride A crepa pelle Marco ride E ogni tanto dice È un periodo difficile Ma per te O per il mondo Anche per me Sto a pensare È un periodo difficile Già essere russo Tutti te odiano In più Questa è andata A far saluto romano Sott'altro tricolore Io se lo faccio Ricordare Perché fa troppo rite Il contrasto È un periodo difficile Rissatine di cuore È un periodo difficile Rissatine di cuore Ma tipo Joker Sto ammattendo Rite proprio il video Mo vediamo Il video Non le foto Infatti Non può gareggiare Per la Russia Dopo il divieto Posto dalla FIA Ok Dalla FIA Detto in toscano In seguito All'aggressione Portata dall'esercito Putin all'Ucraina Ok Perché poi se la ride No? La federazione internazionale Dell'automobile Ha tuttavia consentito Così come è avvenuto Nel tennis Che i piloti russi Possano individualmente Competere sotto altri colori Il quindicenne cartista Ha scelto L'Italia In maggio La vittoria è stata tuttavia Macchiata da un gesto vergognoso Vergognoso Un saluto romano rivolto A chi si trovava In quel momento sotto al podio Così A caso Un gesto compiuto Mentre risuonavano Le note dell'initaliano Che per presto ha fatto giro il mondo Ma non c'è un video In questa cosa Ohè Ma il bello è che Ci stanno una marea di politici Che l'hanno fatto Perché non resisti Alla fine Ohè A caso Gli parte il braccio È tipo Il dottor stranamore È bravo Ma uguale È questo? Che se lo deve tenere Ma non c'è con l'inno Che cazzo Sì sì c'è sta Eh ma si sente di merda Questo? E quindi Con il pugnetto Vai ma guarda La malizia c'è Però un pochetto Ha fatto La faccetta Ha fatto Idolo dei giovani Ha fatto un po' così Un po' sted Un po' nel mezzo Però Gli nazi ormai Fanno pure un po' ride Non era Non era particolarmente fiero Un pugnetto Ha fatto la risatina troll Infatici sti italiani Era vero Che male che lui si taglia Dalle foto si era capito Che poi ci aveva riso pure sopra Vabbè C'ha 15 anni Ma uno si sognerebbe davvero di rovinare la carriera di un pischeletto dei 15 anni Arrivato sul podio perché ha fatto Vabbè Secondo me si è rovinata Vabbè Gli aveva spiegato un attimo il significato La storia Ma questo l'ho mandato tu Immagino sia per Marco Eh non l'ho mandato io Sì sì Porco spino Ma guarda che non ho visti tanti che si fanno i capelli tipo così Sono i capelli di Davide questi Oh te prego No me Mi faresti da Passi dalle treccine tipo al porco spino Vorrei capire di che materiale soffi Cioè che cazzo è quella roba Cioè tutto pare pongo Allora quella cuffietta là No ma poi i capelli I capelli Quella stessa identica cuffia La usavano Quando me facevo i colpi del sole È vero sì Un dolore atroce Perché ti aveva la pinzetta sul cuoio capelluto E ti tirava fuori i capelli Me la ricordo E quando te la levavi effettivamente stavi così Però poi Cioè ti sciacquavi insomma Sì 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 Non so la pratica quale sia Allora Marco Questa invece è un'altra notizia per te Snowpiercer Ma nella vita reale G-Train Il treno più costoso al mondo Vale 350 milioni di dollari Al suo interno giardini Palestri e ristoranti Cioè Snowpiercer Mamma mia Insieme Insieme Cioè guardate che roba Raga Diviso a vagoni Per società Eh guarda È Snowpiercer veramente Per chi l'ha visto Il grande film di Bong Joon Che figata però Io sono pure affascinato Affascinato dai treni in generale Ma ragazzi Ma troviamo delle immagini del film Perché è bellissimo No ma poi Come Snowpiercer Quei vagoni eleganti Ci hanno non so che Sì ma regà Ma 100-100 deraglia Da ste foto No non si può deragliare Deraglia Non si deraglia È tipo Titanic Regà Bra L'Oriente Express È pure un po' Non si deraglia Il film è un cazzo De capolavoro Eh ma Va a trovare Le scene Dove stanno nella parte Tipo qua Però non si vede in cazzo Questa è la parte Della scuola Un treno con una città dentro Snowpiercer No? Una cosa del genere Sì Se mangiano tipo i blocchi di proteine Non vi dico come sono fatti Per chi non ha visto il film Più vai Diciamo Verso La testa E più c'è un mondo Con tutti i comfort Con i ricconi Che fanno le feste Il buco Sì Prima è bella Ho capito la metafora La metafora è chiara Sì 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 È molto bello il film Prima è pure più figo Potrebbe essere pronto Tra meno di due anni G-Train Un progetto ultramoderno Che prevede la creazione Del treno più lussuoso al mondo Il suo inventore è Thierry Gaguin Cioè il lato delle terrestre Il designer francese L'ho ripremiato Che già nel 2020 Aveva lanciato L'idea per la costruzione Di un giga yacht Il giga yacht Il giga yacht Lungo quasi 120 metri Il concept Che ruota attorno a G-Train Riflette la possibilità Di vivere un'esperienza Di viaggio Esclusiva A bordo di un treno Che sarà dotato di spa Piscine Ristoranti Terrazze Camere da letto E tanto altro Infatti secondo Thierry Questo metodo Sarà perfetto Per coloro Che vorranno sperimentare Un'esplorazione Straordinariamente innovativa Su un treno Di alta categoria Comunque su Youtube C'è ancora qualcuno Che scrive Ma perché Marron Ogni tanto fa questo gesto Completamente a caso Ragazzi Ho la sindrome di Tourette Tranquillo Ha un po' di tic Ragazzi Miglior momento Delle due serate A mani basse Comunque chiedono la serie La serie Non l'ho vista ragazzi Io ho visto qualcosina A me mi ha fatto cagà Però ho visto poco Vabbè Che homie che tilt Ho visto dieci minuti Vince La migliore life Cringe Se il pubblico Può stare zitto In pezzi di merda Se siete qua Vedete Oh Masarone Porco Dio Stai zitto Andrea Andrea È vero È un momento molto alto Masarone per sua ragione Allora Dov'è Noi Non abbiamo visto ovviamente Il primo appuntamento Del Paolo Canone Non lo vedremo Perché tanto Già hanno fatto reaction tutti Ma tu l'hai detta quella cosa? Io l'ho visto No dicevo il live Il live Mai Da Giorgio Ah ok Mai Non l'hai detta quella cosa? Mai È il momento giusto per dirla Che sono andato Oppure io Al primo appuntamento Allora Vi ricordate il periodo In cui Gian Lupo Si è assentato Per una settimana E poi si è preso il covid? Spieghi Oddio Ma non è che mi va tanto Di spiegare sta cosa Vabbè Ma no Ma non è perché Non si può dire Perché comunque Mi è presa pure un po' male Perché quando io C'avevo il covid Stavo là Cioè nel senso Io sono tornato col covid Da là Questo Eri uno dei partecipanti Sì Hai scoperto lì Di avere il covid Sì L'hanno rimandato indietro Sì Esatto Vabbè Però Questo Minuto Fa ridere Questa che ho detto È il momento Diciamo E poi Lei è stata ricontattata E mo ci ha fatto una live insieme a lui C'è tutta una storia Perché questo appuntamento È andato Beh come è andato Non so se si capirà Però mo sta andando avanti La love story La love story Tra l'altro Non so se lo posso dire Però No non lo dico Ah questo è il momento da sigma Sì 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 Ok 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 Andare peggio Sì sì assolutamente Poteva andare molto peggio Poi Io però Sì anche meglio Ci abbiamo provato Non abbiamo mai mollato Abbiamo detto La direzione è come ella Qui non era ancora fidanzato Raga però Sì 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 Assolutamente Sono d'accordo Lei vuole scappare Cioè Tipica Pandora Sì Allora Shirley Sì Ma grazie alla fine Di questa avventura Direi proprio di sì È stato comunque bello Sì 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 dai Cioè non è La cosa più bella della mia vita Nel complesso Ci andiamo a bere qualcosa Ti va? Ma direi no Guarda Non volevo nemmeno io Bere qualcosa No vabbè Nemmeno io volevo Sì è questa cosa Convinti che è da sigma Raga Lo Surri così Surri che sta la ride Bellissimo È ancora più imbarazzata Le reazioni dei Surri Vado a metterle sti cazzi No Gaia Clerici Abbandonerà Twitch No No È la risposta Secondo me No che non l'abbandonerà È una domanda terrificante Ma non l'abbandona no Perché dovrebbe? Che è successo? Piccolo sfogo No non è la news Che vi aspettate Comunque Quindi se Bravi 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 Comunque Grazie Grazie Che gentile Sembra Vintissima pure Davide Comunque Sei qui da tanto Allora 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 Cosa è successo? Ma cosa è successo Tutto questo tempo? Grazie Grazie Lo stavamo proprio chiedendo Il web si è chiesto È gentile Pio Dove Piango Grazie È gentile È 1,25 Cosa è successo? Lo so Mi sono mancata Grazie Giada Grazie Allora Ma il montatore chi è? È mancato questo rapporto Però Sarà il suo ragazzo Cioè non lo so Perché sei fidanzata? Vabbè Chi la monta scusa? Ma qua Dell'hanno montata malissimo Perché per dire Io ho sentito 47 secondi Io ho sentito 47 secondi Di roba Che comunque Se ne poteva salvare Al massimo 3-4 Simone Quindi Un lavoro vergognoso Porca Non si sentono i messaggi Di Ressar Stamai mi sento scammato Comunque Scusate Sembra un po' un pagliaccio Ma Non so cosa è successo Alla mia faccia Perché ho messo Tipo le lentigie No tranquilla La tua faccia Sto ridendo Mi devi accompagnare A fare shopping Mi sono scappati i vestiti Sti cazzi Ma ma vedi Grazie Aurora Grazie 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 Allora Cos'è Tanti Marco Tanti Però lascia Twitch Non poteva partire da qua Il video Grazie Ho spiegato Telegram Porca Madonna Scusate Non mi sto capendo Nul E sono stata bene Non è mai stato per me Un peso fare le live Neanche un giorno Grazie Mai 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 Perché ho deciso Di prendermi una pausa Da Twitch Perché sentivo che Twitch non era Grazie Yes Top 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 Grazie Non è chiaramente una fonte di guadagno No Da quello che stiamo vedendo Quindi Lo stavo facendo ma Mi stavo portando avanti una cosa Ma non Cioè mi è sempre piaciuto fare di più E avere Cioè non avere di più Ma fare di più no Sentivo che Si può fare di più Grazie Noemi Ma non mi bastava Cioè non mi bastava proprio fare le live Basta Cioè comunque Volevo fare di più E Quindi ho cominciato a Smettere di fare live Per fare andare un po' la mia testa Grazie Top for more Grazie Per fare di più Ha fatto di meno Sì Per fare di più Non ha fatto live Ah però Magari Di raccoglimento Sì Per ideare nuove Forme Magari ha fatto svariati brainstorming Sì Sicuramente Pensare Semplicemente Hai la ragazza di Metal Kart Ah no lo sapevo No Da vero Dopo Dopo Dover pensare la sera Di fare quello che devo fare Comunque Fare le live è un pensiero No Grazie Brando Cioè mi sveglio E penso Cosa faccio oggi live Cosa faccio tra una settimana in live Comunque Quando si fa una cosa La si fa al cento per cento Quindi comunque la mia giornata I miei pensieri Vanno a questo Quindi ho smesso di farlo Perché volevo Un nuovo progetto In cui impegnarmi Volevo qualcosa di nuovo Grazie Davide Qualcosa Niente Niente Ok Sto per uccidermi Grazie Davide A me sta simpaticissima Cagliacchia L'ho già detto Penso format innovativi Bisogna montare bene Giusta Tre influencer Nel cofano Quando fai un crimine Cime generale Hanno proprio carcere Ah beh Oddio in Russia In questo caso Avevano già scatenato polemiche Al culmine della pandemia Quando ha fatto uno scherzo Ai passeggeri della metropolitana Tossendo e mettendosi Un tovagliolo pieno di sangue Davanti alla bocca Un simpaticone Simpaticone Non poteva dire Ma è un gioco Dai siamo a buco Ne abbiamo incontrato uno L'altro giorno Simpaticone Tu l'ha pure ripreso Quello che tossiva In mezzo alla gente Dicendo il covid Ma è bellissimo Mi sono scordato Devo fare il taglio Allora Dopo l'anteprima De Animali Fantastici Ci portano a Castel Sant'Angelo Per vedere Praticamente Il trailer Del film Proiettato Eravamo appena visto Era un flash mob Organizzato essenzialmente Sì 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 Quindi tu immagina Tutta gente Quindi tanta Che tu stavi Tutti così Tutti con questi telefoni A una certa Passa uno Senza mascherina Che gli inizia a fare Ho il covid Ho il covid E le persone Che si spostavano E lui che passava E lui Faceva così Per farsi Ma l'hai ripreso? Sì 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 Ho pensato Che fai una cosa simile Con l'ebola Lui faceva così Perché voleva Che le persone Si spostassero Così lui passava velocemente Ma ride E io mi sono messa a ride Era tipo un clochard Comunque Non so se l'hai visto bene Non è che ho detto Oh mio dio Ma cosa ho fatto? Io mi sono messa a ride Ho fatto questi figuri Gli ho detto Ho fatto Non è che Sto scoppiata a ride Mi sono messa a ride E ho ripreso Ok L'indignazione Team Leggeresse Vediamo un po' Con i loro corpi Quanto È famosissimo Torca madonna Un colpo di mortaio Dalle spalle Scusate Il porca madonna E ridice In realtà È bellissimo Se cercate su youtube Al volo Giornalista Italiano Bestemmia In Ucraina Ci sta una clip Uguale Quasi come se Una delle due Cioè Sia il rifacimento Della prima Dici Ah non lo so Cioè Ne ha fatta una identica Ma magari È un suo tic Io ho visto Comunque Non ho capito Un vero giornalista Oddio Attenti Regà Eh bravo Marco Ce ne sta uno Dove lui sta in macchina Cosa Stiamo cercando Stiamo cercando Ok Ah ok Le posizioni Principali Mi dà che È sempre lui Siamo a due chilometri No 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 Porca madonna Ma è un vero giornalista O trolla Ma no È normale È sempre lui È sempre lui Capito Porca madonna Pensavo che era un altro Quando ho visto sto video Guardate che C'è pieno di giornalisti italiani Che bestemmiano lì Se sentono pure Nelle interviste Dei americani Che parlano E fuori Senta I italiani Che bestemmiano Ma è simulare Che c'ha due video virali Lui Con la stessa cosa Cioè Ma perché fa rite Perché a noi questo Ci interessa I italiani Ah Ce l'ha avuto in live Ivan Wow Ricorda Mio zio Stefano Che Forse te hai conosciuto Simo Che c'è stanno persone Era quello che stava all'ospedale Eh può essere Che hanno No Non c'era Che hanno le bestemmie comiche Mi zio fa rite Quando bestemmia Ma non è che fanno rite tutti Quando bestemmiano Perché ha quelle bestemmie Porca madonna Tipo capito Tutto risentito Oddio Oppure senti che sussurrano Oddio E quindi fa rite Però non è che fanno rite tutti Lui c'ha la bestemmia Che fa rite Sto giornalista qua Due bestemmie su due Con la calata Ha fatto rite la prima Quando l'ha ripetuta Perché la reazione Dici vabbè c'è sta Impulsiva E poi lo ripete Scusate per Scusate il porca Io ho detto no Mia nonna Ha scritto in chat Sì Quindi credo Devi dare più Lavora per la set Ok Ciao nonna Chiedevo perché Non lo so Pure con sta faccia Mi sembrava un troll Però effettivamente Sì è simpatico Sì 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 È perfetto comunque Il Lavorare è perfetto Per fare Ha segnato Ha segnato Inizialmente sembrava Quella originale Dei canzoni Ma infatti Non ci ho fatto caso Bellissimo Sta troppo bene Allora Una scoperta di Simone Un personaggio mistico Sì rega Allora Spieghi Spieghi Chi è chi è Avete presente ovviamente Ormai sì Tutti i life coach Big Luca Big Luca Tutti i sigma male Che fanno i video Con la musica In bianco e nero Ho trovato Nei meandri di youtube Il Christian Life coach E lui si autodefinisce così Christian in che senso Il suo nome No 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 Cristiano cattolico Quindi Insegnamenti sulla vita Basati Per essere un consigma Seguendo Gesù Il vero sigma originale Quindi un prete sigma In pratica Penso sia un teologo Però sì insomma Ok Ok Che fare Vogliamo chiamarlo prete Chiamiamolo prete Per diventare un No lui Per diventare un prete sigma Un cristiano sigma Ok ok Un cristiano sigma Che fare se non sono vergine Eh sì perché Eh guardate Perché a lui gli arriva Tipo alla posta del cuore No di In questo caso Una ragazza Ormai non so più vergine Non so più vergine Che devo fa? Manco la concepivo più Sta cosa Che sti cazzi Ah è una domanda Marco No no Per alcune persone è importante Non devi essere rispettoso E tutti i credi E le culture del mondo Cazzo Non so non è che non sono rispettoso Sto dicendo che neanche lo concepivo E non capivo qual era il problema Mo l'ho capito Marco ma sai quanti Ancora non sono stati violati Ascoltiamo il cristiano Dai Pensavo che gli dispiaceva Che era virgine Vistale Ma che cazzo ha detto Spettacolare Cioè la lingua degli dei Veramente Non possiamo permetterci Di capirlo E tu sei primo zia a dire Pula Che non la pula E tu sei primo a dire L'hanno minacciato fra Però lì fra Sono testimone Per quello che hai detto Fabio Z Tu hai detto bro Finisce male Se sei ancora qua Così hai detto fra Capito Che cazzo fai Fabio Zia 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 Che cazzo fai Fabio Zia Fabio Zia Finisce male E social boom Che non si può anche difendere zia Social boom zia Capito Ok Genio assoluto Incomprensibile Per noi comuni mortali Comun parla la lingua degli dei Ascoltiamo Che fare se non sono Christian life coach Non si può anche difendere Fiero è cattolico zia Fiero è cattolico Un programma di vita Fiero è molto da destra Ho trovato una perla Vi avevo detto Vediamo A uno dei video che io ho pubblicato Leggendo e commentando il libro L'esperienza dell'amore Di Jason Evert Un americano che con sua moglie Fa compagni di tutto il mondo Dove parla della purezza Serietà ragazzi Serietà ragazzi Ragazzi se non capisco No vabbè Vi è da ride Che devo fare scusa Poi top audio Vi è da ride No top qualità No 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 È vero è vero è vero Del recupero anche della purezza Dopo che si è vissuto in maniera impura Il video castità Fino a che punto spingersi Ha risposto una ragazza Vi voglio leggere Il suo Fino a che punto spingersi Nella fregna In virtù della purezza Ah vabbè certo Quanto vuoi inserire Noi siamo impuri Quindi dobbiamo ascoltare Un altro commento Voi siete pazzi Io sono una ragazza Se un ragazzo dicesse di amarmi Ma si negasse a me Lo lascerei subito Io voglio una persona che ami me E il mio corpo al 100% Comprese le esigenze Che si scatenano in esso Se prima mette delle idee forsennate Vada da un'altra Ho una sessualità molto attiva da anni E nessuno per questo Si è mai dato per scontato La nostra è una storia da favola Ci amiamo, rispettiamo Sosteniamo ogni momento Anche se ho avuto altre storie precedenti In cui ero altrettanto Sessualmente attiva Ripigliatevi Siamo fatti di corpo E la nostra mente È anch'essa materiale Ah però Scienza comprovante Va bene Qualsiasi cosa provochi piacere Deve essere Scienza comprovante Va bene Ma scienza comprovante Stava scritto Rispondo agli haters Ma scienza comprovante Stava scritto O l'ha aggiunto lui? No L'ha aggiunto Non lo so Forse l'ha scritto Non lo so Io spero fosse scritto Perché scienza comprovante Io glielo darei come risposta a lui Ad altre cose che spero non dirà Un modellino del Barone Rosso Da prima guerra mondiale Spero Spero Sta leggendo Chiaramente La smetto Sta leggendo il commento di una hater E risponderà A tono Insomma Provochi piacere Deve essere Solo che bene accolta 2022 Ragazzi Ah perché Siccome siamo nel 2022 Bisogna fare Tutti i propri porci comodi Va bene Queste sono le sue idee Aggiungo Che i miei nonni Hanno sempre fatto sesso Prima del matrimonio E sono andati a dirglielo Ma che strani nonni Ma che strani nonni E i miei zii e i miei genitori Idem Ripigliatevi Bene Allora io mi ripiglio E vi voglio leggere Un altro capitolo Beh innanzitutto È vero che abbiamo un corpo È vero che abbiamo una mente Ma forse questa amica Che ha risposto Ha dimenticato Che abbiamo anche un'anima Che abbiamo uno spirito E che Cheum insegna Se le dà fastidio Gesù Cristo Che si vada a leggere Il mito dell'auriga di Platone Dove c'è l'auriga che guida Che è il nus La mente O lo spirito Che guida L'anima concubiscibile L'anima irascibile E Platone dice Se I due cavalli Vanno per conto loro E l'auriga non li tiene Con la brigliatura Disfano la biga E tutto va a catapascio Va a patrasso E quindi la mente Deve governare Sulle passioni Altrimenti Tutto l'uomo Nella sua interezza Va a patrasso Vai tutto a patrasso Concettualmente è vero Nel senso che ovvio Se siamo governati Solo dalle nostre passioni Istinti Sarebbe un mondo Tipo Sodoma e Gomorra Un mondo di persone Un paese dei balocchi Che bello Obregarci a scopare Ma è bellissimo Perché c'è Sti problemi Beh se Sì Se il mondo potesse funzionare In contemporanea E non Cadere in rovina Il giorno dopo Le cortellate Ma sei scappato Mi moglie Capito Potrebbe durare Due giorni Tiè Tre Sì Più che altro Il discorso è questo È ovvio Che farsi dominare Solamente dagli impulsi Porti al disastro Questo diceva Platone penso Sì Lui l'ha un po' Secondo me Mistificata Però Ad esempio Nel caso della ragazza Lei mi sembra Ben consapevole Delle situazioni Tra l'altro Parla di rapporti Con il proprio compagno Un discorso Legato anche al rispetto Ho detto Ci rispettiamo Abbiamo una storia bellissima E godiamo Reciprocamente Dei piaceri della carne Anche perché lui mi ama Io amo lui Quindi non vedo Nessuno scatafascio In tal senso C'è lo scatafascio Se vuoi definirti Cristiano puro Perché A tutti gli effetti C'ha ragione Lui Nell'ottica cristiana Capito Quindi O se l'uno o se l'altro E queste persone Si triggerano Secondo me Perché si autodefiniscono Cristiane Vanno incontro a questo canale Che però dice Delle cose ormai Desuede Ma vere Quindi il cristiano che fai Sente pure un po' ipocritino E questo secondo me Arrivati nel 2022 Bisognerebbe un po' fare Una revisione A sto punto Perché effettivamente Se uno vuole fare Il cristiano Pure al 100% Deve eseguire queste cose Il matrimonio ancora Non è che sono decadute Esistono ancora Solo che è la società Che è andata avanti E la religione È rimasta ferma È pure vero Che tu puoi coltivare La tua fede Come meglio credi Nel senso Se pensi che non sia Una mancanza di rispetto Per te stesso Per l'altro E non vedi Nessun tipo di In teoria no È una cosa occidentale Questa che ci siamo detti Se sei dogmatico Fedele al 100% Sì però Secondo me Insomma ci sono anche Altre scuole di pensiero Tra l'altro Vabbè Qua parliamo ovviamente Del cristianesimo puro Poi altre religioni Se non rispetti i dogmi Ti tagliano il cazzo Però altre magari Consentono anche Non lo so Rapporti dei sacerdoti Per esempio I protestanti I protestanti Per esempio Però ci siamo evoluti Però qui ovviamente Parliamo Di una versione cristiana Se vuoi fare il cristiano cattolico Ci sono le stesse regole Di 2000 anni fa Non è che so cambiate Bello bello Un po' per controllare la società Comunque Siamo andati avanti Sì sì Sul nostro corpo Non dobbiamo fare il contrario In un'ottica Tra virgolette Democratica Nella quale Ciò che è basso Deve governare Ciò che sta in alto Cioè le passioni Devono governare l'anima No no È il contrario Altrimenti rischiamo Di finire Finire male Finire male Sia su un piano fisico Perché sappiamo Che seguire le nostre passioni Alla fine fa del male Anche fisicamente Se uno ha la passione per il vino Diventa un ubriacone Non possiamo dire Che sia una cosa buona No però vedi Secondo me Una la passione per il vino Diventa un ubriacone È una stronzata Ma che cazzo significa Se uno ha la passione Per il vino Sai quante persone C'è stanno Che magari se fanno Quel mezzo bicchiere A pranzo È un ubriacone Il sabato sera Diventi un ubriacone Ma no ma anche Ogni giorno a pranzo Però se abusi Il discorso è questo Se abusi di qualsiasi passione Diventa una dipendenza Quindi con il vino Diventa un ubriacone Se abusi Della lussuria In teoria diventa Uno sporco Però lui Non ha parlato di abuso Lui non ha parlato Di abuso Lui ha detto Aver dipendenze Ti porta No per forza no 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 Di dipendenze Lui ha detto passione Aspetta Ritorna un attimo indietro Che poi faccio confusione Non vorrei Mettergli parole in bocca Che non ha mai detto È chiaro che Qualsiasi passione Se portata all'estremo Può diventare Una cosa dannosa Non è che ce lo deve Di noi Lo sappiamo anche noi Però è sbagliato Di comunque Avere passione Se uno ha la passione Per il vino Diventa un ubriacone No Assolutamente no Ascoltiamo I sommelier Sono tutti ubriaconi Rischiamo Vaffanculo Devono governare l'anima No no È il contrario Altrimenti Rischiamo Di finire Finire male Finire male Sia su un piano fisico Perché sappiamo Che seguire le nostre passioni Alla fine fa del male Anche fisicamente Se uno ha la passione Per il vino Diventa un ubriacone Apposti Non è così I sommelier Sono tutti degli ubriaconi Ha detto Rischiamo prima Sì 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 Però L'associazione è un po' forzata Dai sì Puoi avere anche la passione Per il sesso Ma non diventare Una persona Indegna Lui dice che è rischioso Entrare in quel percorso Diciamo Un ragionamento Poi avere la passione Della religione Esagerata Che diventi torchemata E vuoi controllare la gente E vai in giro Se esageri Su tutto Si può applicare questa cosa Sì Però c'è chi Dice che magari al sesso Non è applicabile Questo discorso Cioè secondo voi È applicabile Un discorso parallelo Vino-sesso Nel senso che anche il sesso Puoi inebriarti Come il vino Esiste la dipendenza Dal sesso Eh esistono i dipendenti Dal sesso E fanno danni Continui Allora Stessi solitamente Ma più controllata De così Sta cosa Da dogmi E per i concetti Del sesso Cioè comunque Siamo creature Te l'ha insegnato Ne abbiamo parlato Tante volte Pure con Davide Siamo creature Siamo animali Cioè Non siamo fatti Per vive monogami In realtà Lo facciamo Per la società E ci riuscimo E mi sembra Basta guardare Patrizio Sì Mi sembra Che non è controllato Il sesso Quindi tu Non vuoi essere monogamo Con Veronica No non sto di questo Sto di che lo facciamo Quindi non è che è una cosa Che dice Senza regole Il sesso È altamente Però il sesso Senza regole Applicato da tutti Porterebbe a scatafascio Io sono Sono d'accordo Con questo Questa linea Potremmo sapere Cioè se stanno Comunità hippie Dove c'era il sesso Libere Stavano una bomba In teoria Poi non lo so Ma tu pensi Che noi Noi Società occidentale Potremmo Da un giorno all'altro Passare ad una cosa Boh Con tutti questi preconcetti E anzi E gente che ti dice Sei uno sozzo Se fai queste cose No La gelosia è un preconcetto No però Un pochetto Sicuramente Non aiuta A livello di società Stamentali No per me Non è un discorso Di gelosia Anche magari Una persona Che non è impegnata Se donna Viene Solitamente Definita In maniera Sicuramente Non positiva Se ha tanti rapporti C'è questo concetto Che ovviamente Deriva dalla cultura Religiosa Della sporcizia Legata alla sessualità Poi ci sono persone Magari che Non rispettano Se stesse Quindi Non lo so Arrivano a diventare Dipendenti Ripeto Magari dalla pornografia Eccetera Però fanno un danno A loro stessi Ma è Gente che usa il sesso In modo Per Magari Sì Oppure per tappare Dei buchi Che magari Sono più psicologici E fisici Esatto Però questo vale Per tutto Ok Per ogni cosa Ma sì Chiaramente sì Penso sia pure Una banalità Di che ogni cosa Estremizzata Alla fine Porta male Sì È una banalità Ma escludere il sesso Da quel calderone Dire ma no Ma scopate quanto vi pare Non succede niente Secondo me no Vabbè scopate quanto vi pare È un'altra cosa Che è un altro opposto De non scopate Esatto Prima lo dicono Cioè si dice Ma in realtà Poi ci sta molto controllo Sulla cosa Cioè è raro Che una ragazza Tromba ovunque Un'amica E tutti gli dicono Ha fatto bene Ha scopato tutti gli amici Intorno a te La gente Il padre I zii I cugini Dicono Ma cosa hai fatto Se la mentalità È un po' così Ancora Infatti no Ma perché viene visto L'atto di scopare insieme Non è tanto il fatto Che la gente scopi È ciò che si crea attorno Cioè capito Non siamo isole No Cioè spesso e volentieri Vediamo magari Tipo gruppi di amici Dove il sesso Si insinua E rovina Un po' i rapporti Persone Che proprio Passano da partner All'altro In evidente È stato confusionale Proprio societario Non so nemmeno come dirlo Che fluttuano Non trovano Diciamo un porto Non lo so Secondo me Applicare Questa mentalità A tutti Se tutti diventassimo Così erranti Si creerebbero più problemi Che altro Ma vabbè Secondo me La problematica In tal senso In una dipendenza Ovviamente Arriva nel momento In cui Come dicevo prima Tu cerchi di Risanare qualcosa In te Credendo che il sesso Sia la soluzione Ne parlò Lo citavo anche ieri Ne parlò Rocco Siffredi Che appunto A un certo punto Fu costretto A pagare delle prostitute Nonostante Facesse già sesso Sia sul set Sia con la compagna C'è anche un bel film Shame Con Michael Fassbender Di Steve McQueen E ovviamente I problemi Lì erano altri Nel senso che c'era Questa ricerca compulsiva Quindi non era Più un piacere Ma una vera e propria Dipendenza Se non lo faccio Sto male Mi manca qualcosa Allora lì È un discorso Ti porta ad usare Il prossimo Capito E anche te stesso Però non potremmo sapere Come sarebbe una società Dove nessuno Sia geloso Della propria consorte Perché sono liberi L'amore libero Inizia te con Veroni Piccole comunità Ci stanno Però sto ragionamento So che andrà malissimo Non lo puoi sapere Secondo me Nel campo della sessualità Secondo me Entrano in gioco Anche altre cose Legate alla salute Prima abbiamo parlato Di alcol Quindi c'è anche un discorso Di magari stare attenti Da un punto di vista Dei vari contraccettivi Cose di questo tipo E per quello Uno lo sconsiglia Maggiormente A ragazzi molto giovani Non per cose Di sempre De Non è morale O passi come una zoccola Ma come stai di te Pure per cose di salute Che magari uno Ma anche Come sono nate Queste cose qui Del cristianesimo Che nascono Penso Per le medesime cose Certo Però Dopo duemila anni Secondo me Dopo duemila anni Io rispetto tutti Quindi Tranquilli A far sesso Do per matrimonio Cazzi loro Però la trovo Un po' una cosa Desueta Dai Ai tempi Proprio del cucco È una cosa buona Si fa del male Una passione del sesso E va Con tutte le donne Con tutti gli uomini Alla fine Alla fine si piglierà qualcosa Che sarebbe meglio Che fosse rimasto Dovera È evidente questa cosa qui E poi non dimentichiamo Che la sessualità Non è semplicemente Uno strumento È un'espressione Della persona Della sua interezza Ed è un'espressione Dell'amore Non è una cosa Che si deve scatenare Come si scatena una belva È un'espressione dell'amore E l'amore È qualche cosa Che pretende esclusività Dedizione E l'amore C'è anche prima Del matrimonio Anche su questo Ovviamente non sono d'accordo Il sesso Non è sinonimo di amore Non è un'espressione Diretta dell'amore No Però può arrivare Ad esserlo Certo che può Ci sono varie cari Di profondità Ad un rapporto Che si può avere Il sesso può anche Esprimersi In autoerotismo Nel momento in cui Ti fanno una sega Stai amando Te stesso Forse al massimo Il suo errore È dire il sesso È quello No È l'espressione dell'amore Può diventare quello Ed è bellissimo Come anche no Esatto Può anche essere Solo piacere Sì Esclusività Non vagabondaggio La questione di oggi è Però Perché purtroppo Viviamo in un mondo Che è così Ma se io arrivo Prima del matrimonio E non sono più vergine Cosa devo fare? Sono spacciato? Vuol dire che Il mio futuro È rovinato per sempre? Beh vi voglio leggere Quello che dice Jason Evert Che ha in questo Una bella esperienza Se da un lato La perdita della verginità Riguarda il passato Dall'altro La castità Riguarda il presente Indipendentemente Da cosa è successo La settimana scorsa O l'anno scorso Vale ancora la pena Di cambiare Quindi all'amica Che mi ha scritto Tranquilli se avete scopato Mezza volta Sei anni fa Con quella ragazza Siete ancora vergini Sì ma La castità Ma sai in chat Qualti casti Ce stanno Ora visto che in chat È pieno di casti Facciamo un attimo Un ragionamento Potete tornare Vergini tutti Quindi ci sono Tanti vergini E tanti casti Possiamo dire Che abbiamo una chat Di vergini Tra una settimana Un uomo è ok Ma per la donna Come fa Falla torna indietro Nel tempo Dice che è una cosa Concettuale C'è che casti Concettualmente Non sei vergine Ma sei casto Quindi questa cosa Immagino Sì Guardate che bella Come cosa Sia apprezzabile Ho rivalutato Questo video Dipende Cioè Nella sua ottica Cristiana È progressista In confronto Devi avere C'è il Un solo sporco Di sangue C'è il solito concetto Del perdono Cristiano Quindi Secondo la sua ottica Hai sbagliato Ma puoi ridimerti Con la castità Vorrei fare Un parallelismo Con la mia esperienza Personale Bella Con la castità Nell'ultimo anno Sono stato Un vagabondo Come ha definito lui A un certo La faccio brevissima Che non mi la potete Sono cazzi miei A un certo punto Ho deciso Attivamente Basta Cioè Stavo cercando Compulsivamente Sia sesso Che magari donne Così perché Anacerto Ho detto Guarda Mi sono rotto il cazzo Mi sta facendo male Per ego Per ego Per noia Per sborà Anacerto Mi sono detto Mi sono stufato Sto vedendo Che questo percorso Non mi sta facendo bene Sia psicologicamente Che fisicamente E ho detto Mi do una calmata E Sempre usando i suoi termini È iniziato il mio periodo casto E sono stato meglio Tu non è che l'hai scelto In relazione alla sessualità Ma l'hai scelto La mia salute è mentale Perché magari Quei rapporti umani Non ti facevano Non ti davano soddisfazione Ho notato Che non è proprio Una cosa Che mi appagava Più di tanto Volevo sperimentare Non rinnego nulla Rapporti occasionali Che non ne avevo mai avuti Però ho capito Che non mi davano Quasi niente Anzi più Rogne che altro Ok Quindi ho detto Ho preso la decisione Mi sono dato una calmata Per tot mesi Ma qua la vecchia arbenzinaio Dici? Eh? Qua la vecchia arbenzinaio Sì pure la vecchia arbenzinaio Quello è stato un casino Ho avuto un periodo casto Che mi ha fatto bene Psicologicamente E anche fisicamente Credo Questo volevo dire Ok Guarda Che hai ancora tempo Per cambiare tutto Per fare tutto nuovo E fare tutto bello Hai questa possibilità E ne sarai felice Forse hai perso la virginità O forse ti è stata portata via Comunque sia andata Hai ancora te stesso da offrire Intraprendi Da oggi Una vita di purezza Non è mai troppo tardi Per riconquistare la tua purezza Ma è un processo pieno di sfide Talvolta è facile Interrompere delle relazioni negative Ma è dura Evitare di caderci di nuovo Sfortunatamente Molti di coloro Che sentono di avere concesso tutto Si chiedono Se abbiano ancora qualcosa da offrire Invece di ricominciare da capo Che questo zoom No Sul modellino Il modellino Ma d'ho flashato È un aereo Da prima guardare Qualcosa da offrire Terrano un errore sotto un altro errore Per far apparire Il barone rosso Quei sono oribes Saltano da una relazione All'altra Pensando che il piacere Colmerà il loro bisogno di amore Ma questo rende solo più difficile Il processo di guarigione Dopo aver perso la mia virginità Ha confessato Crystal Non rispettavo me stessa E una relazione vuota Ne seguiva a un'altra Sin da quando ero piccola Volevo l'amore perfetto Ma dopo tutto quello che avevo fatto Pensavo di essere l'ultima persona Sulla terra A meritarlo Alla fine Ho capito Che trovare un bravo ragazzo Non era questione di fortuna Ho ricominciato da capo Ho alzato l'asticella E mi sono presa L'impegno di vivere la castità Sono trascorsi tre anni Sono fidanzata E non mi sono pentita Un solo giorno Di quella scelta Tutti quei cazzi Non ho resistito Di quei sette piselloni Non è un discorso di pentirsi Ma anche Cioè uno può anche scegliere Adesso basta Perché come ho fatto questa ragazza Senza pentirsi del passato Allora tutto ciò può avere senso Se ci stacchiamo dal giudizio Lui intende Castità è il percorso giusto Ma semplicemente qui ha descritto Una storia simile alla tua Nel senso Io volevo una cosa Ma stavo cercando Questa cosa Nelle persone sbagliate Nel modo sbagliato Nel senso Magari quelle persone Da me volevano solo sesso Io volevo una relazione seria Quindi ho deciso Di rinunciare A quei rapporti occasionali Con persone Magari non adatte Ad una relazione stabile E ho trovato Quello che mi aggrada Come sei fatto tu Cioè funziona per me Ha funzionato Magari per altri no Però cioè nel senso Nemmeno a sminuire Questa cosa Insomma funziona Posso dire Dipende sempre quello che vuoi Ripeto Cioè nel mio caso Per esempio Mi è capitata La scoperta di una persona Con la quale volevo passare Più di una notte insieme Ah certo Non sono andata a cercarla Stavo tranquillo Poi mi sono accorto Che c'era di più Ma quello è Pure a me mi è capitato Dopo che mi ero Un attimo fermato Ecco Ho smesso io Di cercarlo compulsivamente E mi è capitato E mi è capitato Anche perché stavo Con la mente più libera Grazie ad aver abbandonato Quella voglia compulsiva No Cioè mi era scesa Magari Non è che ho deciso io Mi sono sfogato E mi sono stufato Comunque Alex Parlavo di Dario Moccia Comunque Ecco Tutto spiegato Con 15 ragazzi In tre mesi No C'avevo preso La fine Buono Fior di Viselle Bigotto Perché si comportasse così Ha detto Andare alle feste E flirtare È divertente Le ho chiesto Se fosse davvero così Con le lacrime agli occhi Ha risposto No Non lo è Per lei Per lei Per tante altre ragazze Invece può essere Come divertente Flirtare Scopare con tanti ragazzi Per lei no Ovviamente poi la persona Ci sta male Allora lì fai in danno A te stessa Certo Ma è solo dire Se ti accorgi Che quello che stai facendo Non ti appaga veramente Fai qualcosa Non è l'unica via Certo Però se stai bene Non crei i casini Sta tutto tranquillo Vai Sì perché lo sbaglio Spesso è sempre di Tagli netti No Uno può anche Ridimensionarsi Magari Uno dice Oh io Andavo Ogni volta a ballare Ogni volta Staccia a provare Con le pischelle Scopare pure Va a finire Che non mi piace più Non è che non vado più A ballare Magari Vado a ballare Invece di Focalizzarmi Solo sulle pischelle Cerco di divertirmi Un po' più Con gli amici Che ne so E altro Cioè pure dai tagli netti Non è una cosa Secondo me giusta Perché uno deve Stare bene No ma che poi Te porta pure Perché la Della privazione De botto Cosa che secondo me È sbagliata Su ogni cosa Ti porta sempre danni Perché te va Scombustola Tutto Secondo me Tranne Se è una cosa Proprio gravissima Lì è ovvio Che bisogna Un taglionetto Ma spesso Ti bisogna sfumarle Piano piano Le cose Specie con le Dinamiche Sociali Pure Questo vale Sia per i vizi Sia per Varie dinamiche Sociali Problematiche Ma anche Personali e basta Non dico per forza Con più persone Poi questa è la mia idea Una domanda su questo Ce l'ho passato io Ma non è che ho smesso Di uscire Sì sì La domanda è questa In molti casi Lei ha citato una ragazza Sono andata con 15 uomini Questo senso Magari di disagio Può anche essere indotto Dalla percezione Che ha la società Di te Dato che lei ha citato Anche quel troia A me mi dicevano Ci addio Stavo comunque male Infatti anche Vale anche per l'uomo Nel senso che magari Lo fa Non perché ha voglia Ma perché si Sente in dovere Oppure si sente più figo Nel farlo Ma in realtà Non prova Un grande piacere Vale da entrambi In entrambi i lati È stupido In entrambi i lati È proprio una cosa Una costruzione Patricale Devi semplicemente Renderti conto Di ciò che piace a te Esatto E non devi tener conto Né la donna è troia Nel maschio e chad Sono entrambe persone Che possono Viversi bene o male Quella situazione Il vero chad È quello che sta bene Con se stesso Esatto Alla fine Quello assolutamente Però è vero pure Che sicuramente Se invece te ditte chad Te dicevano troia Era peggio Era peggio Magari Ma comunque Ripeto Non è che Mi appagava Infatti Infatti la domanda Era per Entrambe Diciamo Le definizioni Sociali Stanno separando Stanno divorziando Ti consiglio dare Al tuo futuro Coniuge Se proprio in questo Momento Lui O lei Fosse a letto Qua è molto semplice Se sei in cerca Di amore Non solo Per il tuo corpo Vai dalle persone giuste Molto semplice Ma comportati anche Nel modo giusto Sì nel senso Lei cercava Un amore In un rapporto Magari occasionale Sì c'era passione Magari dall'altra parte Sì C'era Se vogliamo dire così Amore per la tua carne Ecco In quel momento Ma ovviamente Non l'amore che cercavi Sicuramente C'era confusione Su quello che vuoi pure In quei momenti Magari Certo Dove devi andare Per trovare l'amore giusto Oppure Nel racconto Il problema non è che scopi Ma che lei voglia Rapporti seri Eh sì appunto Non incontrerai mai Segui questo Consiglio E ce la farai Perdona In cuor tuo Chi ti ha fatto del male E perdona te stesso Tutti noi abbiamo Delle cose Del nostro passato Che vorremmo Poter cancellare Ma praticando la castità Nelle relazioni future Vedrai che vivere La purezza Guarirà Il passato Nel frattempo Non pensare Di dover Sempre avere una relazione L'indipendenza E la maturità Sono qualità Affascinanti Non è necessario Avere sempre Il moroso L'amorosa Chiodo Scaccia chiodo È una mentalità Sbagliata Impara a stare da solo Chi non sa stare da solo Non sa stare con gli altri Vabbè Questo è abbastanza E della tua impegno E della tua nuova vita Potresti comprare Una candela bianca Se un giorno deciderai Di sposarti Potrai farla accendere Dal tuo coniuge La prima notte Bravo zombie gamer La soluzione non è la castità Ma la consapevolezza Certo Perché nel momento in cui Ti rendi conto Di volere Un certo tipo di rapporto Allora agisci di conseguenza E che la castità Ti risolve i problemi Magari Come dicevi tu Un momento in cui Mi prendo del tempo Per riflettere Sì Non è che il valore È la castità Il valore è la riflessione In quel caso Che ti porta poi Alla consapevolezza Quindi cosa voglio io Dalla vita Dai rapporti Questo Cerco questo Io ho cambiato pure approccio Nel tipo di rapporto Con una ragazza nuova Ad esempio Magari aspettavo un po' di più Cioè non puntavo subito Alla scopata Magari Cercavo prima di Di parlare Di conoscere meglio Di attendere Perché Ha dato i suoi frutti Dunque non so se avete sentito Ha detto che invece di scopare Magari consigliate Comprare una candela E tenela lì Accendela Quando poi Dopo il matrimonio Scoperai Quasi entra Nella religione No sì Ti immagini Grazie Fabio Ah tu ragazzi Vieni qua Questa è la candela La candela che fai La componi tu piano piano La candela La metta al culo La componite piano piano Diverta sempre più lunga E bianca Basta che non perdi la virginità No il prossimo anno Devi venire Fabio Assolutamente Vedete questi sono piccoli consigli Che dovremo seguire Jason Evert E sua moglie Cristalina Sono bravissimi Perché hanno avuto Un'esperienza Di peccato Ma anche poi Di scoperta Della fede Della purezza Del recupero Di quanto avevano buttato via Perché è vero Che Dio fa nuove Tutte le cose Pensiamo a Santa Maria Maddalena Una donna che si è data A tanti uomini Ma quando ha incontrato Il vero Grande amore Che è quello di Gesù Cristo L'impurità Cristalina Ha combattuto Per difendere La purezza L'ha portato Questo ungo La ragazza del cristale Cristalina Cristalina Ma Gesù no Cristalina Vabbè pure Gesù Sarà scopata Maria Maddalena Cristalina Grazie Grazie Fabi Grazie Fabi Maddalena Ma tu eri tranquillo Quando scopavi in giro Ma hai provato Ciò di cui parlava Simone No no Io stavo tranquillissimo Non ho mai cercato Niente Di preciso Se non Piacere Ma anche piacere Magari Al di fuori del letto Intendo Poi Se c'era Un'attrazione Sessuale E poi Ho conosciuto Ale C'è stato qualcosa In più Quindi ho approfondito Ma alla fine C'è sta pure Per trovare una donna Conosce Ha delle conoscenze Finchè non trovi Poi ovviamente C'abbiamo un'ottica Di una persona Che definisce peccato Ma è anche come Ti approcci a quelle conoscenze Capito Cioè se Se tu c'hai la forma Mentis Voglio scopare Alla fine Ci vai a scopare Con la persona Che magari Hai appena conosciuto La sera stessa Ma quella sensazione Di vuoto Il giorno dopo E la voglia Di voler scappare Non penso che l'ho provata Solo io In tutto il mondo No Ma questo Se invece vai Con l'ottica Di voglio conoscere Questa persona Perché mi interessa Non è che Stai con il pallino Devo le scopare E questa è la cosa Magari approfondisci Un po' prima E magari dici Vabbè Non mi è piaciuta Non mi ha scopo Evito Ma se non c'è la candela Capito È quello Cioè Tremo un altro Così sotto il pallino È l'imperativo De dove scopare Se esci con una Comunque pure se non Si crea nessun rapporto Ma do scopare Eppure questo Ma quello è estremamente sbagliato Non mi ha scopo Magari me la scopo Perché si crea Un'intesa sessuale altissima Alle volte Vanno anche di pari passo È vero Nel senso Conosci una ragazza Che ti interessa molto Si Fate delle bellissime Giacchierate Poi si finisci a letto Però è pure Quello che ti aspetti Te Quello che vuoi te Stai nel mondo Voglio scopare Magari Tralasci alcune cose Capito Si 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 Vabbè Magari non le vuoi Neanche da quella persona Eh si Vabbè Poi ovviamente C'è anche il fattore culo Penso Quello è fondamentale Certo Ragazzi Ci vediamo Che abbia un bel culo Esatto Ci vediamo Questa sera Alle ore 21 Ciao ragazzi Forse Una disordata Quindi state pronti Volevo di solo una cosa Antiquerela Che questo canale È molto interessante In realtà Portarlo al cebro Vedi stimola comunque Delle conversazioni Abbiamo fatto una bella chiacchierata E quindi Vabbè invitiamolo Ufficialmente invitato Ok A stasera Ciao 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 grazie Mi sembra assurdo. State pure registrando. Aspetta, due caccia di una cosa, tutti al bagno. Come ti fatti?